Per migliorare la visibilità del tuo business, devi svolgere alcune azioni specifiche sui contenuti o sulle impostazioni del tuo sito web. Azioni come scegliere le parole chiave adatte, inserire descrizioni e testi ottimizzati, monitorare l'attività dei concorrenti per rispondere in modo adeguato. La versione Ranking Coach SEO Tool e SEO 360 di Aruba ti offre spunti, suggerimenti, guide e tutorial per eseguire al meglio queste attività. Vediamo come. Una volta avvenuto l'accesso alla dashboard, vai alla sezione Compiti. Affinché la presenza online della tua azienda sia perfettamente ottimizzata, dovrai lavorare su i motori di ricerca, i social media e il marketing locale. La sezione Motori di ricerca raccoglie tutti i compiti relativi all'ottimizzazione delle tue pagine web e copre sia il contenuto che gli aspetti tecnici del tuo sito. Si chiamano Compiti dei motori di ricerca perché i miglioramenti che porteranno al tuo sito web avranno un impatto diretto sul posizionamento del tuo sito nei risultati dei motori di ricerca. In base al piano acquistato, vengono proposte attività che includono tutto ciò che riguarda la SEO. Metatitolo, metadescrizione, intestazioni, H1, H2, H3, plugin, design dell'home page, Google Search Console, Backlink e molti altri ancora. Dal menu indicato puoi applicare filtri sui dati da visualizzare. La sezione Social Media ti consente di collegare i tuoi account a social, potrai anche visualizzare lo stato di ottimizzazione e apportare le modifiche che riterrai più opportune. Ed infine la sezione Marketing Locale ti aiuta anche nel posizionamento della tua attività nei portali local come Google My Business o Pagine Gialle.